Sono stati identificati due tifosi della Nocerina e due del Brindisi che domenica pomeriggio avrebbero partecipato ai Tafferugli nel prepartita sia a Nocera superiore sia a Nocera inferiore. Sono in corso comunque le indagini anche attraverso l'esame dei vari filmati di videosorveglianza per identificare gli altri partecipanti alla Rissa. Si tratta di oltre un centinaio di persone a indagare la polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Nocera inferiore e i colleghi della Digos di Brindisi che stanno analizzando i filmati per dare un nome, un cognome e ovviamente un volto ai supporter violenti pugliesi. Al momento, ricordiamo, si contano due feriti non gravi che sarebbero gli ultra Brindisini poi identificati. La conta dei danni dopo la guerriglia di domenica è di sei vetture dei supporter pugliesi danneggiate e un'auto parcheggiata di un residente di Nocera superiore. Secondo quanto ricostruito finora, una decina di auto e un minivan con i tifosi Brindisini, dopo essere usciti dalla 30 a Mercato San Severino, non hanno seguito il percorso prestabilito dalle forze dell'ordine arrivati a Nocera superiore, invece di avvearsi per via nazionale via Firenze, per poi giungere allo stadio, si sono diretti per il centro di Porta Romana. Alcuni avevano anche mazze e altri corpi contundenti. Quando sono giunti in via Porta Romana, sono scoppiati i primi tarfei rugli da stabilire chi abbia iniziata per prima tra le due tifoserie. Comunque, le indagini proseguono.